Continua il certosino e capillare lavoro di ricerche storiche da parte del giovane Ivano di Meglio, che con passione e dedizione, giorno dopo giorno, riesce ad aggiungere tasselli importanti alla storia dell'Isola d'Ischia. Sfogliando registri e manoscritti secolari, sta riuscendo a retrodatare sempre di più la comparsa dei nomi, di comuni, frazioni e contrade dell'Isola d'Ischia e a ricostruire l'origine dei cognomi solani, retrodatando, anche in questo caso, la loro comparsa sull'Isola Verde. Quello che sorprende di più è che questo enorme lavoro di ricerca lo stia portando avanti non uno storico di professione, ma uno storico per passione. Infatti, Ivano di Meglio è un giovane ed apprezzato barman, componente dell'AIS, Associazione Italiana Sommelier, la cui sete di conoscenza a riguardo della storia della nostra isola lo porta quotidianamente a studiare e a ricercare, con risultati spesso sorprendenti ed inaspettati. Proseguono i miei studi sia nel campo della cognomazione, quindi l'origine e la formazione dei cognomi tipici dell'Isola d'Ischia, andando proprio al ceppo originario, quindi parlo del XIII secolo, ad andare indietro. Cosa non semplice, in quanto sono pochi i dati a nostra disposizione. Io ricostruisco gli spostamenti delle famiglie portando indietro quanto più possibile le lancette dell'orologio. È una ricerca, quella sulla cognomazione a 360 gradi, che mi porta talvolta molto molto lontano nel tempo. Faccio l'esempio dei Di Massa, che è un cognome che la cui ricostruzione mi ha condotto addirittura nel medioevo di Carlo Magno, quindi molto indietro nel tempo, più di mille anni fa. Sotto la lente, nell'ultimo periodo, ci sono stati i talerci o taliercio, che è un cognome che è presente sull'isola almeno dal 200. Poi ci sono stati i monti e altri cognomi che intendo approfondire, come ad esempio famiglie storiche del territorio, come ad esempio quella Piro, il Casamicciolo all'Acquameno, e tanti altri cognomi la cui origine deve essere ricercata e individuata. Dall'altra parte, invece, ci sono state le nuove evidenze storico-scientifiche che riguardano la toponomastica e, in particolare, le datazioni e le retrodatazioni di contrade o di intere frazioni, come quella di Casamicciolo. Il toponimo Casamicciolo l'ho individuato retrodatandolo in un atto contenuto nel registro della Cancelleria Sveva, nel 19 dicembre del 1259. Questo dato è molto importante, ma non per la data che sposta gli orologi di 11 anni indietro, ma perché si aprono nuovi spiragli. Dato che si tratta della Cancelleria Sveva, noi purtroppo abbiamo subito dei danni grandissimi da vari episodi che si sono susseguiti nella storia del nostro regno, come quello nel 1943 a San Paolo Belsito, dove i nazisti appiccarono il fuoco e distrussero la gran parte del fondo Angioino e quello Svevo. E qui dicevo, è importante perché si aprono gli spiragli per il recupero di nuovo materiale inedito sull'isola d'Ischia. Quindi sicuramente ci sto lavorando. Altra cosa importante è stata la conferma, quindi il ritrovamento di un secondo atto tra gli atti degli agostiniani dell'ex convento di Santa Maria della Scala, ritrovamento di un atto dell'anno 1300, questa volta non viene riportato né il giorno né il mese, ma sempre l'anno, quindi a dimostrazione che Barano si chiamava in questo modo già nel 1300.